L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 non risparmia nemmeno i pasquali di Bormio. Un altro colpo basso inferto al turismo e alle tradizioni della magnifica terra. L'associazione I Reparti, guidata da Simone Schiantarelli, è costretta ad annullare la storica manifestazione che da secoli mobilita e rivitalizza il paese ed è seguita in tutto il mondo. Niente sfilata per le impornenti e ricercate portantine a tema religioso, vere e proprie opere d'arte realizzate con minuzia e ricche di significato, di cui si legge negli archivi storici del 1606. Divieto e stoppa ai raduni delle persone, di cui tantissimi giovani, che da mesi in garage o scantinati o baite hanno iniziato a lavorare per forgiare il loro capolavoro finale e intanto stare insieme a divertirsi. Questa di sicuro è partita come la limitazione più pesante per tutti. Poco tempo fa si pensava di riuscire comunque a fare la manifestazione quando l'allerta non era ancora così alta, magari ponendo le portantine nei vari reparti o facendo una sfilata a ranghi ridotti. La tracemazione di questa situazione e il conseguente decreto ministeriale ha fatto sì che la decisione ponesse il bene altrui e quello della collettività dinanzi a tutti. Pasquani allullati, se ne dispiace il Comune, che nel dispaccio di martedì scorso mostra come il dolore della rinuncia possa trasformarsi in fierezza e grande senso di responsabilità. La decisione, molto sofferta, maturate alla luce dell'emergenza che stiamo vivendo, scrive il sindaco Roberto Volpato, dimostra la capacità di fare un passo indietro di fronte all'interesse della collettività. E' questo un gesto che mette in luce i principi su cui si fonda questa nostra associazione storica. Il bene dell'altro e della comunità che in questo momento si traducono nella stretta osservanza delle indicazioni governative. Una comunità privata dell'evento simbolo di una rinascita che ci si augura più prima che poi non solo Bormio possa tornare a vivere. Dispiaciuti soprattutto le donne e i bambini, protagonisti indiscussi del corteo in costume tipico, artefici delle luminose e ricercate coreografie, diverse per ogni reparto, buglio, maggiore, dosso rovina, dossiglio e combo, fatte di corone e ghirlande, cestini e gadgets lavorati a mano con passione, simbolo di ogni pasquale, un ricordo prezioso e duraturo regalato a tutti i presenti. Ennesima manifestazione cancellata per l'ufficio proloco di Bormio, guidato da Maria Sessella, che non può più lavorare. Appoggiamo, dice, in pieno, l'associazione Reparti di Bormio nella difficile, ma al contempo responsabile, scelta di annullare la manifestazione. In questo difficile momento, reputiamo essenziale osservare strettamente le indicazioni governative per preservare la salute di tutta la comunità. Solo in questo modo potremo uscire il più presto possibile e più forti da questa situazione di emergenza.